Una rivoluzione in tavola sta per sconvolgere l'Italia. Siete pronti a scoprire l'alimento del futuro che sta dividendo la nazione? In un piccolo angolo delle Marche, a Macerata, una svolta epocale sta per entrare nelle nostre cucine, scuotendo le fondamenta del panorama alimentare italiano. Parliamo della farina di grillo, un'innovazione che, dopo anni di sperimentazioni e ferventi dibattiti politici, ha finalmente ottenuto il via libera, grazie all'impegno di Nutrinsect, l'azienda pioniera con sede a Monte Cassiano. La farina di grillo, o come alcuni la chiamano, la polvere di aeta domesticus, non è solo una novità. È un vero e proprio simbolo di un cambiamento radicale nei nostri schemi alimentari. Ma cosa ha reso possibile questa rivoluzione? Nel 2022, le autorità europee hanno dato il loro benestare, segnando l'anno successivo, il 2023, come l'inizio di una nuova era per il mercato alimentare. Francesco Cianni, il visionario CEO di Nutrinsect, ci racconta di un decennio di lavoro incessante, di sfide superate e di un sogno che si materializza. Oggi non celebriamo solo un successo aziendale, dice Cianni, ma un avanzamento verso un futuro sostenibile e innovativo nell'alimentazione. Qual è la vostra opinione su questa rivoluzione alimentare? Il futuro è nella farina di grillo o preferite restare ancorati alle tradizioni? Lasciate un commento qui sotto. E chi meglio del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollo Brigida, per testimoniare l'importanza di questa pietra miliare. La sua visita allo stabilimento non è solo un gesto formale, ma un segnale forte del sostegno politico a queste iniziative audaci. Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio questa novità. Il prodotto rimane divisivo, con barriere culturali e percezioni negative che ancora gravano sul suo accoglimento. Il dibattito è acceso e le opinioni si dividono tra entusiasmo e scetticismo. Per non perdere altre notizie shock come questa, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche. In questo scenario di notizie live stream, dove lo shock e il dramma spesso dominano, la farina di grillo emerge come un argomento di discussione che supera i confini del semplice prodotto alimentare, toccando questioni di sostenibilità, innovazione e identità culturale. E voi, cari spettatori, dove vi posizionate in questo dibattito? La farina di grillo rappresenta per voi un'opportunità shock o una sfida al nostro patrimonio culinario?